Ben ritrovati, ripartiamo dalla pagina sportiva con un prodotto modenese che sta sempre più conquistando l'estero. Si tratta dell'International Roller Cup di pattinaggio a rotelle che si prepara a sbarcare in Spagna. Sentite. E ora lo vogliono anche in Spagna, a testimonianza che le idee, quando sono cattivanti e vincenti, non conoscono la parola crisi. L'International Roller Cup, evento che da diversi anni si inserisce nel menù sportivo natalizio di Modena, sarà esportato anche in Spagna. Lo spettacolo del pattinaggio a rotelle di livello mondiale quindi non si allontana da Modena, dove rimarrà anche per i prossimi anni, ma contagia, nel senso buono del termine, anche Barcellona e la Spagna, altra culla del roller. Veniamo giusto in questi giorni da un incontro che abbiamo avuto con la Federazione Spagnola, che hanno visto l'evento. Sono rimasti molto impressionati, favorevolmente, da come è stato creato, da quello che siamo riusciti a fare. E quindi ci hanno convocato per capire come poter fare questo evento e esportarlo in Spagna. Ci sono tutti i presupposti per poter portare questo evento che nasce a Modena, ma che vuole essere internazionale, come è il suo nome, International Roller Cup. Uno spettacolo è tale se può raggiungere più gente possibile. Proprio per questo l'International Roller Cup probabilmente potrà essere visibile non solo al pubblico italiano e spagnolo, ma anche in America, grazie a un accordo con ESPN. È un po', se volete, la conferma di quello che Modena ha lavorato in tutti questi anni. Cioè, essere un punto di riferimento e cominciare a lavorare in maniera diversa da quello che era uno sport cosiddetto minore o dilettantistico, come tutti gli altri.